La paretina 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 Essere fatto pur di un male Gli ha una valentina Il tempo non fa il suo dovere E a forza che gioca le cose E a forza che io fai di solo Apriamo! E tu sarai il pretesto Per approfondire Un piccolo problema Personale Che filosofia Su come entrare nel giornamento Ma non piacere agli altri Come in fondo Chi si aspetta che sia Per me Ma non pensi ma Come in fondo Ci si aspetta che io I su come in fondo Chi si aspetta che io Per approfondire La che ho Ci si aspetta che io Di solido La che ho Ma non pensi ma Ci si aspetta che io Senzio argomento, per esempio, non è vero che poi di più spesso, senzio argomento, per esempio, non è vero che poi di più spesso. Senzio argomento, per esempio, non è vero che poi di più spesso, senzio argomento, per esempio, non è affatto vero che poi di più spesso, senzio argomento. Senzio argomento, per esempio, non è vero che poi di più spesso, senzio argomento, per esempio, non è vero che poi di più spesso, senzio argomento. Grazie.